Federico Ferrini, l'omicida di Maria Venasio de Sousa, subito a processo. Il PM Chiara Pistolesi, che adesso ha chiuso l'inchiesta sul delitto di via della robbia, chiederà infatti al giudice Pier Giorgio Ponticelli di avviare immediatamente il procedimento senza celebrare l'udienza preliminare. Al commerciante casentinese Reo Confesso, in carcere da sei mesi, inoltre, non è stata contestata l'aggravante della premeditazione, particolare questo che potrebbe così scongiurare la richiesta dell'ergassolo, e che confermerebbe invece l'imputazione scattata al momento dell'arresto. Ferrini, assistito dall'avvocato Jonathan Giannini, potrebbe richiedere un rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. Era la notte dello scorso 25 agosto, quando Federico Ferrini si presentò a casa di Maria Venasio de Sousa con una sbarra di ferro in mano, ma secondo la ricostruzione della procura, l'intento non era quello di uccidere la sessantenne brasiliana ritrovata a cadavere il giorno successivo, riversa sul letto con la testa fracassata ed un laccio ancora attorno al collo. Secondo l'accusa, fu infatti un delitto d'impeto nato nella concitazione della lite. Lui avrebbe temuto il ricatto da parte della donna, che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti la sossidua frequentazione con le prostitute. Il delitto fu confessato dallo stesso Ferrini, prima negli uffici della squadra mobile e poi di fronte al giudice per le indagini preliminari.